L'area clienti PEC ti consente di visionare velocemente i servizi certificati attivi e quelli non ancora acquistati. In questo tutorial ti mostrerò in modo semplice le funzionalità del pannello. Per iniziare, collegati alla pagina areaclienti.pec.it e scegli se entrare con l'indirizzo completo della tua casella PEC e la relativa password o con l'account Aruba. Una volta avvenuta l'autenticazione, dal menu di sinistra hai la possibilità di cliccare su uno dei servizi elencati, come ad esempio posta certificata. In questo modo si accede all'area dedicata da cui visionare lo stato del servizio scelto, dove hai la possibilità di rinnovare il servizio, abilitare o disabilitare la modalità di rinnovo automatico. Per finalizzare l'attivazione ti basta aggiungere o associare un metodo se già registrato. Puoi inoltre avviare la procedura di conferma della tua identità, è il procedimento attraverso il quale viene riconosciuto il titolare della casella PEC, o attivare la verifica in due passaggi, un metodo comprovato per impedire gli attacchi informatici diffusi. Ma non solo, puoi abbinare uno spazio aggiuntivo alla casella ed in caso di casella PEC Pro o Premium aumentare anche lo spazio di archiviazione e puoi visualizzare eventuali ordini associati ai servizi. Per concludere, cliccando su uno qualsiasi dei servizi elencati nel menu sulla sinistra, come ad esempio Firma digitale, e nel caso in cui il servizio non sia stato già acquistato, si visualizza il pulsante Acquista da cui potrai eseguire l'ordine.